Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontarvi quello che la cronistoria ci dice in questa giornata, 15 marzo 1941, seconda guerra mondiale, Padre Pio soffrì immensamente per la pazzia di uomini incoscienti che diedero inizio ad una delle più feroci guerre della storia umana che coinvolse tutto il mondo, come sappiamo. Condannò l'orgoglio satanico di chi aveva voluto la guerra, pregava, piangeva, soffriva per muovere il Signore a pietà di tutti i poveri innocenti e le centinaia di migliaia di vittime volute da questa ferocia umana. Padre Alberto D'Apolito racconta, scrive proprio questo, noi tutti constatando la celerità con cui andavano avanti le armate tedesche nell'occupazione di mezza Europa nel 1941, eravamo convinti che la guerra sarebbe terminata presto e un giorno commentando proprio con Padre Pio questa situazione, lampo dei tedeschi, chiedemmo proprio a Padre Pio che cosa ne pensasse. Padre Pio pronto in questa giornata, 15 marzo 1941, disse, lo disse con una vera e propria amarezza sul volto, racconta Padre Alberto D'Apolito, siamo ancora all'inizio, la guerra durerà a lungo, la vedremo passare di paese in paese come una piena travolgente, disse Padre Pio, seminando distruzione, sangue e morte e che il Signore ci salvi. Poi Padre Alberto racconta, lo interrogrammo proprio su San Giovanni Rotondo, ecco sarebbe stata salvata da questo mietere vittime di paese in paese, questa era la domanda dei confratelli di Padre Pio, da questo flaggello della guerra, beh Padre Pio rispose diretto, il Signore per la sua infinita bontà risparmierà questo luogo benedetto e tutto di Gargano. e così fu, la guerra continuò e il Gargano così come San Giovanni Rotondo venne salvato questa distruzione e per luce.